Buonasera e grazie di questa bella partecipazione. Voglio intanto ringraziare chi ha reso possibile la realizzazione di questa bella iniziativa, in particolar modo Giacomo Tatti, presidente del Consorzio Granaio dei Medici. È un'occasione molto importante per il Mugello perché ci consente di manifestare la nostra identità attraverso l'eccellenza agricola, artigiana e artistica. Grazie, grazie a tutti voi. Buona serata.